Buongiorno, scusate l'ora, non era una notizia che probabilmente vi serviva, sarà un video cortissimo, ve lo dico. Alle 5.25 di stamattina mi è arrivato un messaggio da una persona che conosco, da una persona che assisto, erano caricate le rendicontazioni di novembre, con data 25, quindi data ieri. Diciamo che domani nel pomeriggio dovreste poter, dovrebbero essere già i soldi sulla carta, fra la mattina e il pomeriggio, ecco, penso che ci siano già oggi, se proprio c'è un ritardo ci saranno il 28 mattina, ecco, comunque nell'arco fra il 26 e il 28 la carta sia caricata, almeno sapete, probabilmente la ricarica l'hanno fatta stanotte, perché a 5 di mattina, i miei dubbi, comunque le carte, le rendicontazioni sono partite, adesso dovete aspettare un paio di giorni, ecco, uno o due, oggi è impossibile, ecco, perché comunque se hanno indicato il 27 e il 27, vi dico fra il 27 e il 28 dovreste avere i vostri soldi sopra e chi deve fare il prelievo aspetti domenica, anche se io vi consiglio sempre una cosa, onestamente, fatelo in un giorno feriale, perché se ci fosse un problema allo sportello poste, la poste aperta potete farvi ridare subito la carta, non succede praticamente mai, perché se la carta l'avete tenuta bene, non succede praticamente mai che la carta venga assorbita, però nel dubbio, ecco, almeno se è feriale lo sportello aperto, una ultima cosa, per la signora che mi ha chiesto ieri, il video di presa in giro lo preparo, lo caricherò uno di questi giorni, perché onestamente adesso corro all'Inps, poi vado in regione, domani ho un altro impegno, cercherò di caricarlo giovedì o venerdì e scusate il ritardo anche lì, però purtroppo sono giorni e poche notti anche per me, anche perché, vabbè, ci sono altri casi che devo seguire, devo parlare con l'università per i calendari, io vi saluto, ci sentiamo presto, non lo so quando, cioè non lo so quando, vi l'ho detto, o giovedì o venerdì, sarà difficile che riesca qualcosa domani, buona giornata a tutti e mi raccomando adesso sapete più o meno quando ci sono i soldi per poter andare a ritirare, ciao a tutti!